Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano si rialzavano senza una sbucciatura, di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa, che ci avete? Aria, naturalmente, e come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano si rialzavano senza una sbucciatura, di picchiare il capo nel muro. Non avevano paura, avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa, che ci avete? Aria, naturalmente, e come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente, e come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico. Insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi e il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico. Insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiate il capo nel muro non ne avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa? Che ci avete? Aria, naturalmente. Come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevano ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma. Era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa? Che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire. Il paese sembrava bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico. Insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo al muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi e il naso. Ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire. Il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma. Era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano, anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso. Ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire. Il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Grazie.